La Benettona a Milano per giocarsi le residue, speranza di qualificazione alle Final 8, comincia bene Garini, 2 su 3 da 3 nel primo quarto, ma poi 0 su 5 per i 12 punti finali. Michael nel secondo periodo è l'artista del 26 a 13 con cui Milano si porta in vantaggio un primo tempo chiuso con questa rubata e canestro di Sani Becilo, il unico canestro dal campo per lo sloveno che si sfoga così. Sì, nel secondo tempo inizia lo show sull'assist di Mancinelli, c'è Vigiano che vola sopra il ferro 5 gli assist per il Mancio, 16 punti per Vigiano con 4 su 4 da 2, peraltro prende tiri sempre ad altra percentuale, 6 su 11 totale per lui, clamorosa partita per Stefano Mancinelli. La Benettona nel terzo quarto è solo Jasmin Vukic, piazza 10 dei suoi 12 punti finali nel terzo periodo, la Benettona rimane a Gallarrivanca a meno 4 e ci sono le dita di Michael, due tap-in fondamentali. Mantengono Milano in vantaggio, arriva la vittoria 80-73, terza sicura l'Armani, fuori dalle Final 8 la Benettona di Jasmin Repesha che non ha esordito nel migliore dei modi.